Ciao, sono Enrico, stasera preparerò una mia ricetta che è spaghetti con la pescatrice, le denoci, i porcini e i gamberetti. Perfetto Enrico, io se vuoi ti do la mano, sono qui con te. Grazie, molto ben accetta. Seleziono prima alcuni gregli di noci belli e poi serviranno come decoro sopra il piatto. Poi ne prendo un po' e li trito grossolanamente. Cosa dici, va bene? Direi perfetto, perfetto. Poi iniziamo a fare più o meno la stessa cosa con i porcini. Anche questi li tagliamo. Sto tagliando i gamberi. Questi li faccio tutti che sono buoni. E adesso viene la parte difficile. Questa è la pescatrice. Adesso la puliamo, cerchiamo di farla a tocchetti. Vado intorno all'osso. Ok, adesso abbiamo tutti i nostri ingredienti. Qui c'è già l'aglio e il prezzemolo che useremo alla fine. Qui ci sono le noci, i gamberetti. Ma la prima cosa è un po' d'olio. Olio extravergine d'oliva abbondante. Lasciamo che si scaldi un attimino. Aspetta su un attimino l'aglio. Pronto? Ok. Allora l'aglio lo togliamo perché mi basta il profumo. Butto la pasta. E butto i porcini. Adesso butto le noci. Si vede, si vede che sei un appassionato di cucina. Diciamo poco vino, giusto per dargli profumo. Io inizio ad aggiustare un po' di sale. Sì. Aggiungiamo i gamberi. Oh, un po' di colore. Oh, si sta asciugando. Questo è un bel legante. Ha un bello aspetto, un bel profumo. Ci manca solo il prezzemolo. Finalmente buttiamo la pasta dentro in modo che si insaporisca bene. Ok. Oh, che spettacolo. Che fame. Ti diamo un po'. Poi a decorazione, ci mettete uno, due, tre gherigli. E ecco pronto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.